Inoltre 2000 in marcia tra studenti, cittadini, istituzioni per chiedere la pace non solo in Ucraina ma in tutti i conflitti del mondo parte così la quattro giorni di Utopic Fest nel borgo di Rondine. Bisogna dare un segnale forte che non ci arrendiamo, che non siamo indifferenti e che quello che succede di brutto nel mondo noi non ci adagiamo a questa idea, noi non restiamo indifferenti come ci ricorda Liliana Segre e quindi camminiamo perché in giorni di festa non possiamo dimenticare le tragedie del mondo. Tanti personaggi che parteciperanno a questo festival da Brunello Cucinielli al sottosegretario dell'ONU arrivato a Rondine dicendo sosteniamo le iniziative della Santa Sede per trovare la pace in Ucraina ma l'intervento più atteso è stato quello del cardinale Matteo Zuppi presidente della CEI reduce dal suo viaggio a Kiev. Direi tanta 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 sofferenza la necessità di una pace giusta tanta sofferenza tanta tanta e la necessità a cominciare dai più piccoli a cominciare dai bambini. La chiesa può essere ponte, cioè può mettersi in mezzo ai contendenti, a chi è nella lite e nella guerra per cercare di dare un abbraccio a entrambe le parti e per cercare di riaprire le strade, i sentieri del dialogo, del guardarsi negli occhi, del cercare non il bene dei potenti ma il bene della gente. Qui a Rondine studenti ucraini e russi riescono a convivere a loro, abbiamo chiesto allora qual è la strada della pace. Secondo me sì è importante di parlare di pace ma allo stesso tempo è importante di capire su che base questa pace è possibile e quindi questo primo passo che il Vaticano ha iniziato per me è molto importante e significante ma anche in questo dialogo tutti i parti io come Ucraina la mia parte devo essere ascoltata e devo essere compresa in tutta integrità ma anche complessità. È difficile perché non sono un rappresentante del governo russo ma penso che tutto il dialogo comincia tra i popoli e quando i popoli parlano noi possiamo influenzare il nostro governo di parlare più, di essere più amicabili.